Ho diretto 15 mila dipendenti tra AMA, Servizio Giardini e non ho nemmeno una multa in seconda fila per divieto di sosta, quindi questo va visto e analizzato bene dagli elettori. E poi il cambio delle regole è fondamentale, basta con i soldi a pioggia ai partiti, in regione questo è stato tolto, basta con i privilegi assurdi fuori tempo, privilegi tipo medioevo per caste che non possono più esistere come Vitalizio senza senso. È stata passata da 70 a 50 il numero dei consiglieri regionali, cosa che non è stata fatta in Parlamento, per esempio, e soprattutto ci siano organi esterni che controllino le spese della regione. Pensi che per assurdo si davano soldi a pioggia ai partiti, a tutti i partiti perché tutti i partiti sono rimasti da centrodestra a centrosinistra, sono rimasti indischiati in questa questione. Chi controllava l'utilizzo era un organismo interno che i consiglieri regionali nominavano, quindi erano loro i controllori controllati. Una cosa che appunto non stava né in cielo né in terra proprio per quanto riguarda il regolamento, quindi il regolamento ferreo ci siano organi esterni di revisione dei conti che controllino in maniera ferrea e chi ha sbagliato paghi. Fortunatamente in regione, non come avviene a livello nazionale, c'è la preferenza. Ora, gli elettori che avevano votato in maniera assolutamente onesta e coerente, Fiorito e Maruccio, grazie alla presenza della, faccio appunto questo esempio, ma ne potrei fare altri, e faccio adesso grazie al fatto che anche l'utilizzo della preferenza non li ruoteranno più, anche perché non faranno tutti i candidati, ma non potranno esprimere la loro preferenza. C'è qualche problema di audio? Non so se l'auricolare, il viva voce? No, no, forse sono in un luogo, sono in un'associazione di categoria, quindi sono in un luogo che forse si sente male. Mi sentite adesso? Sì, sì, un po' meglio. Dicevo che quindi va l'utilizzo, grazie al cielo, a livello regionale, ancora della preferenza, permette ai cittadini di essere protagonisti e di analizzare con attenzione chi votare e chi mandare alla regione. È una raccomandazione che faccio a tutti, non lasciate da soli i politici, non ci lasciate da soli anche dopo che siamo eletti, perché noi abbiamo bisogno di essere accompagnati nel nostro cammino, di essere stimolati, noi abbiamo bisogno di suggerimenti, di idee, noi dobbiamo essere il politico eletto da tramite tra i cittadini e le istituzioni, solo così si può riportare il cittadino a essere protagonista della politica, perché il cittadino è colui che ci suggerisce le iniziative. Io faccio solo un esempio fra tutti. Nel nostro gruppo politico al Consiglio regionale a suo tempo ci fu proposto da un cittadino normale che venne da me in farmacia, io lavoro ogni giorno dietro al bancone, mi venne a proporre, mi disse dottor perché io che ho lavorato una vita e ho 75 anni e ho una pensione minima debba dover pagare il mezzo, il cotral, per andare a trovare mia figlia a Civitavecchia. Io ci pensai, i proposi ai nostri referenti regione, appunto questa lamentela e questa si trasformò, eravamo all'allora governo storace, della regione si trasformò nella pesta dell'anziano in cui c'era la gravità dei mezzi pubblici. Senta una cosa, leggiamo dei giornali che è ancora in, si sta chiudendo la lista e ci sono delle riunioni molto vivaci, se così possiamo dire, perché la Presidente Polverini vuole ostacolare a tutti i costi l'ingresso del Presidente, l'ex Presidente del Consiglio abruzzese. Come finirà secondo lei? Guardi, io non so cosa dire, certo io ritengo che bisogna dare un taglio con il passato, bisogna sia con chi ha sbagliato e fra tutti io ci metterei anche la Polverini. E che è stata super premiata, il numero 3 della lista ha lasciato un po' perplessa questa scelta. Chi ha sbagliato nel passato dovrebbe avere la dignità di stare zitta invece di poter parlare, e quindi io ritengo che bisogna, il centrodestra deve cambiare proprio passo e quindi bisogna mostrarci al cittadino, all'elettore una veste totalmente cambiata rispetto al passato. Quindi queste sono beghe di partita a cui io non voglio entrare, ritengo che il rinnovamento deve essere totale. Andiamo avanti con le novità, con persone nuove che si affacciano alla prima volta nelle istituzioni della regione, ma che vengano da decenni di amministrazione sana, pulita e la gente è ormai adulta ed è capace di decidere. Quindi ancora una volta spingo i cittadini del Lazio a dare le preferenze ai candidati che si conoscono e che sono soprattutto la loro storia politica e professionale, parlo del pop per loro e quindi andare a scegliere la persona migliore che li posso rappresentare. Un'ultima battuta perché siamo proprio fuori tempo massimo e dando una scorsa al programma elettorale mi ha colpito questo discorso che mi sembra molto importante in un momento come questo nel momento in cui si dedica attenzione alla piccola e media impresa cercando di facilitare l'accesso al credito. Ecco, quali sono le misure, le leve che voi proponete per riuscire in questo obiettivo che viene spesso dichiarato ma nessuno riesce a portare a casa il risultato? Una battuta per il discorso del sostegno alle piccole e medie imprese. Ho sentito la domanda, fra l'altro casualmente io mi trovo interrotto per intervenire al telefono con un'associazione di categoria di imprenditori che sto presentando la mia candidatura a loro e senza altro in questo momento le istituzioni devono mettersi a disposizione assolutamente delle imprese. Innanzitutto con agevolare dal punto di vista burocratico tutto ciò che di amministrativo si parla, quindi non è possibile che un imprenditore per intraprendere la sua iniziativa debba avere tanti vincoli tipo amministrativo come per esempio la costituzione proprio di magazzini, di officine e così via. Inoltre ritornare a essere leader per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei. Ci sono tante possibilità economiche, tanti fondi che vengono dall'Europa e non sono adeguatamente utilizzati. Io faccio per esempio questo esempio proprio del governo Storace. Pensate, ci sono più di 300 regioni che costituiscono la comunità europea. Bene, la regione Lazio fu premiata per due anni di seguito durante il governo Storace come la regione che aveva utilizzato maggiormente i fondi europei. Diventammo veramente la regione più virtuosa d'Europa. I campioni d'Europa più della Bavaria, più della Carinzia, più della Lombardia, regioni che conoscono come regioni virtuose, proprio perché utilizzammo al 100% i fondi europei. Faccio l'esempio dell'assessore Iannarilli, l'assessore agricoltura, che utilizzò il 113% dei fondi. Tutto il suo plafon in più fu premiato con un 13% in più, che erano rischi di altre regioni italiane che non venivano utilizzate. Pochi anni dopo l'assessore Valentini e l'agricoltura del governo Marrazzo utilizzò invece il 15%. Quindi i fondi europei ci sono, sono fondi che vengono dalle nostre tasse e ritornino qui nella regione Lazio e siano a sostegno delle imprese, perché le imprese hanno bisogno di attivazioni, di incentivi. Poi la creatività italiana, la laboriosità degli italiani, soprattutto nel settore delle imprese, è forse una delle prime al mondo, quindi va sostenuto il lancio, le nuove idee, le nuove iniziative e poi gli italiani e gli imprenditori italiani sono capaci di andare avanti da soli. Benissimo, siamo alle 12 e abbiamo terminato il nostro spazio. Tanto avremo modo di incontrarci e confrontarci ancora, perché abbiamo lasciato ai margini, ma avremo modo di centrare sia l'argomento sanità che l'argomento rifiuti, che sono un po' la palla al piede della nostra regione. Da questo punto di vista io da farmacista vengo al mondo della sanità e da ex assessore all'ambiente possiamo parlare di tutti e due. Esatto, e parleremo pure delle tante discussioni che ci sono state attorno ai farmacisti, sulle liberalizzazioni. Veramente sarebbe interessante cercare di capire, anche se lei è un addetto ai lavori, però è parte in causa a capire cosa c'è dietro questa resistenza da una parte rispetto ai tentativi che vengono fatti per cercare un po' di aprire. Qual è la situazione reale? Quella sono curioso proprio. Ci sono adesso in atto concorsi per 3.000 nuove farmacie in Italia, quindi forse è l'unico settore in cui le liberalizzazioni sono state attuate. Ma io non penso... Ne parleremo. Non penso che sia l'unico problema... Assolutamente. ...dello delle vicine, forse è maggior... incide sulle tasche delle farmacie... Per carità. Il gas, l'acqua, la luce che non sono state assolutamente toccate. Va bene. Grazie. A presto. Un saluto, arrivederci.